Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'Angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse, rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'Angelo le disse, non temere Maria perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'Angelo, come avverrà questo, poiché non conosco uomo. Le rispose l'Angelo, lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio. E questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Allora Maria disse, ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'Angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Parola del Signore. Che bello che è celebrare queste feste. Vedo che le sentiamo, le viviamo, le portiamo nell'anima tutti quanti. Anche perché quando guardiamo all'immagine, sono belle queste immagini, no? Vediamo tanta e tanta umanità. Oggi non siamo venuti a celebrare una Dea. Siamo venuti a celebrare una donna mamma. E voi che siete mamme capite molto di più di noi il mistero. Noi possiamo immaginare. Voi l'avete vissuto. Il mistero della maternità. Quanta umanità c'è dentro tutto questo. Quanta ricchezza, quanta bellezza. Ma anche noi che non siamo parte di questo mistero, però l'abbiamo vissuto perché la mamma ce l'abbiamo, ce l'abbiamo avuta. E allora la parola che ci viene spontanea è quella di dire grazie, grazie, grazie Dio per questa maternità che ti ha coinvolto e che ci coinvolge. Ma guardate che cosa sto dicendo. La maternità ha coinvolto Dio. Dio ha avuto bisogno di una madre. Ha bisogno di una madre perché la sua presenza di Maria materna è continua, no? E noi ci ha coinvolto e ci coinvolge. La presenza materna è sempre vicina a noi. Grazie Signore. Vedete, il grande pericolo di queste feste è quello di mettere un'aureola sulla testa e quindi di portarci via la Madonna da quella che è la maternità, l'umanità. mentre invece noi stiamo celebrando una pienezza di umanità. Che bello che è la Madonna senza togliere niente della grandezza del fatto di essere diventata la madre di Dio. Che bello che è averla accanto a noi come donna, pienamente donna. Avete sentito il Vangelo come ce l'ha riportata in questo senso la Madonna? Vi leggo solo l'inizio, perché ci sarebbero tante altre cose, ma solo l'inizio quest'oggi vorrei sottolineare. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. e lo traduco perché le parole sono difficili. Promessa sposa vuol dire fidanzata, morosa. Anche per lei c'è stata la stagione e l'amore. Come per tanti di voi. Io direi per tutti noi, perché chi non sa amare è un fallito, eh. Lo sappiamo questo. E quindi tutti siamo stati toccati, siamo toccati dell'amore, perlomeno spero, ripeto, altrimenti saremo dei falliti. Che cosa c'è di più bello di questo? Allora celebrare Maria. Oggi vuol dire riportarci Maria a quella essenzialità dell'amore. Anche per lei, la stagione bella dell'amore. A un certo giorno Giuseppe le ha detto ti amo. E lei è diventata rossa. Come siete diventate rosse voi alla prima volta che il vostro moroso vi ha detto te vuoi ben, te dà un baso. O non siete diventate rosse? Non siete diventati rossi. Gli è mancato il pudore allora. Mentre invece che bella cosa, che cosa stupenda. E quindi anche lei, diventata rossa, ha risposto anch'io ti amo. Capite? La grandezza, la bellezza di questa donna. Innamorata, si è appassionata. Una passione che l'ha accompagnata poi durante tutta quanta la sua esistenza, la stagione dell'amore che l'ha toccata. E credo che tutto questo ci fa allora pensare, no? A una ricchezza di un amore che dobbiamo un po' così riportarlo dentro di noi. Ma se lei si è innamorata di un uomo, era anche innamorata di Dio. E delle volte noi pensiamo che questi due amori siano incomponibili. Come avrà fatto la Madonna a innamorarsi di un uomo, Giuseppe, e innamorarsi anche di Dio? Come avrà fatto a comporre queste due realtà che sembrano così distanti, l'amore per Dio e l'amore per l'uomo? Perché li ha composti? Come ha fatto? Secondo me li ha composti, primo, perché era trasparente. Quando l'amore è trasparente non c'è distanza tra l'amore di Dio e l'amore per l'uomo. E secondo, che è questo, l'essenziale, la fonte di ogni amore è Dio, la fiamma che accende. Maria è stata accesa da questa fiamma, proprio per Dio, e quindi è stata capace di amare anche un uomo, Giuseppe, e poi, e poi il suo cerchio si è allargato, è diventata la madre di tutta quanta l'umanità. Vedete? Questa è la grandezza, credo, e la bellezza di Maria. Grazie, Signore, per lei. Oh, però, attenzione, eh, perché in lei possiamo capire proprio la ricchezza di questo che sto dicendo, la ricchezza dell'amore. Amare, voce del verbo morire. Non spaventatevi, lo ripeto, amare è voce del verbo morire. Sapete che l'amore viene proprio dalla morte. Amare vuol dire tu non morirai. Eccola la grandezza della Madonna. Si è avvicinata alla fonte dell'amore che è Dio e allora ha imparato proprio a vincere la morte, ma anche ha imparato il senso di una morte vera come donazione. Perché chi ama impara a morire a se stesso, al suo egoismo. Amare vuol dire una essenzialità, una fonte di tutto. Che vuol dire allora io cerco la tua felicità, io mi metto tra i tuoi piani, io sono discreto, mi tiro da una parte, non voglio farti del male, io ti promuovo sempre, io cerco veramente la bellezza, la ricchezza di te, del tuo bene. dai che lo diciamo ai nostri giovani questo. E lo diciamo perché ne hanno bisogno. Ma non lo diciamo solamente con le parole, anche. E lo diciamo anche con la nostra vita, con il nostro modo di essere, con il nostro modo di comportarci, con le nostre famiglie, che questo l'hanno imparato e lo vivono. Io credo che tanti dei nostri giovani, purtroppo, devono andare in cerca di chissà che cosa, perché magari non trovano nelle loro case esperienze profonde e vive e autentiche di un amore fino a questo punto. E allora hanno bisogno di andare in cerca fino addirittura a prostituirsi. Oh, che tristezza. No? Hanno bisogno di chissà quali esperienze. Amare, voce del verbo morire. Che bella che è questa festa, allora, che è piena di umanità, che ricchezza che ci porta, che conversione anche ci richiede. Perché sì, ci richiede anche cambiare stile, atteggiamento, rapporti, magari vincere un po' di quello che sono le tentazioni, pensare solo a noi stessi, ai nostri egoismi, a quello che noi pensiamo che ci realizzi e invece ci allontana da noi stessi, oltre che da Dio e dagli altri. Buona festa dell'Immacolata, allora, carissimi. Che questa immagine di Maria ci tocchi, ci prenda per mano e ci accompagni con tutta la vere condia, il pudore che lei ha vissuto, con questo amore trasparente nei confronti di Dio e degli uomini, di quell'uomo e ci insegna allora ad amare questa festa. La prima lettura ci ha portato lontani dall'amore. Adamo non aveva più quella trasparenza, neppure Eva, non avevano più quella trasparenza di rapporti e si sono nascosti. Dove sei, Adamo? Gli ha detto nella prima lettura Dio. dove sei? Mi sono nascosto, ho avuto paura. Perché ci si nasconde? Quando manca la trasparenza manca proprio la voglia di mettersi davanti a Dio, davanti agli altri. Ci scopre che siamo nudi. Chi ti ha detto che sei nudo? Ti ha detto il Signore. Addirittura poi Adamo quando manca questa trasparenza ha cominciato a fare così. È stata lei e Eva che cosa ha fatto? È stato lui il serpente. non si è più responsabile. Quando manca questa trasparenza dell'amore la colpa è sempre degli altri. Non si assume mai la propria responsabilità. Capite che bella che è questa festa? Maria sia l'immagine di un amore che ci cambia nell'atteggiamento e nello stile di vita e di rapporti con gli altri e sent'altro anche con Dio. Buona festa dell'Immacolata a tutte e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.